Per Alleanza è un piacere oggi essere qui nella casa di CEO4Life che è così focalizzato sui temi della sostenibilità e della parità di genere. Oggi affrontiamo il tema dell'educazione finanziaria che sta molto a cuore ad Alleanza. Noi siamo impegnati in un vero e proprio piano di educazione finanziaria assicurativa già dal 2020 per cercare di colmare il gap degli italiani. Oggi gli italiani, e noi conduciamo in questo senso un osservatorio annuale insieme a Bocconi, sono al di sotto del livello della sufficienza. L'Edufin Index ci dice in particolare che il livello di alfabetizzazione finanziaria in Italia è 56, dove in una scala da 1 a 160 è la sufficienza, quindi conferma una insufficienza. Seppur rispetto all'anno scorso c'è stato un piccolo miglioramento. Ora, oltre questo, il nostro osservatorio, l'Edufin Index, ci dice anche che c'è una disparità, in particolare una disparità di genere, perché il livello delle donne è 54 rispetto agli uomini è 59, quindi c'è un gap in termini di livello di educazione finanziaria e c'è anche un generational gap, perché anche i giovani hanno dimostrato di avere un livello più basso rispetto alla media degli italiani. Questo è il motivo per cui come Alleanza, oltre a misurare il fenomeno, abbiamo messo a terra un vero e proprio programma di attività concrete, volte alla diffusione dei contenuti, in particolare eventi educativi, produciamo un piano editoriale che poi diffondiamo con i nostri social, con il nostro web e con i nostri canali. E sulle donne, in maniera specifica, abbiamo anche creato nel 2023 una rubrica, una rubrica, l'ABC dell'educazione finanziaria, che quindi va su i vari media, la stampa, piuttosto che la radio, piuttosto che i podcast, e quindi nei canali dove sono presenti le donne, utilizzando il linguaggio delle donne, proprio per cercare di colmare questo gap. La cosa interessante è che, visto che la rete sul territorio di consulenti finanziari assicurativi di Alleanza è fatta di 10.000 persone e la metà di queste sono donne, abbiamo selezionato alcune donne che conducono queste rubriche, o meglio rispondono alle domande delle lettrici e delle ascoltatrici, quindi un po' sotto al cappello le donne che parlano alle donne, proprio come dicevo, per cercare di colmare questo gap.